Le scuole di Pescara risponderanno presente al suono della prima campanella che ci sarà il prossimo 13 settembre. I lavori in alcuni plessi sono le battute finali e il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli spiega ai nostri microfoni come si partirà senza particolari problematiche. Ho già convocato una riunione con i presidi per il 4 settembre proprio per vedere se c'è ancora qualche criticità. Io fino a questa mattina sono stato a fare dei sovralloghi e sono stato alla Codignola di via Mizzignoto che entro la metà di ottobre, fine ottobre, la riavremo. Quindi i ragazzi che adesso sono allocati nella scuola Mazzini torneranno nella propria sede in modo da poter cominciare con l'abbattimento della scuola media Mazzini. Siamo stati stamattina anche con la preside all'Antonelli, anche l'Antonelli è tutto pronto quindi non avremo problemi. Quindi il 13 settembre però ci sono i presidi che poi con l'autonomia possono decidere o qualche giorno prima o qualche giorno dopo, possono riprendere regolarmente le elezioni. Quanto riguarda le iscrizioni c'è stato un calo rispetto agli scorsi anni dovuto anche alla denatalità che sta colpendo il nostro paese e anche la nostra regione. Purtroppo questo è un problema che ce l'abbiamo a livello nazionale, regionale e anche a Pescara. Abbiamo alcune zone della nostra città dove c'è un calo, benché minimo, ma c'è. Però ripartiamo tranquillamente con tutti gli insegnanti, con tutto il personale ATA, con tutti quanti pronti a ripartire per il nuovo anno scolastico.